non si va a complicare troppo la faccenda davanti cerca di portarsi Raipur De Greppi e veloce anche Rapida OP poi Risk BF rispetto OP ancora ritorno di fiamma Ruben Griff allargo terza per Roger Tav quindi Randall Club e infine Ruben Gonzales il passaggio ai primi 200 metri per Rapida in 15 e 5 la segue Raipur davanti a Risk poi Rispetto allargo risale Roger Tav ancora alla corda ritorno di fiamma intanto guadagna posizione allargo Roger Tav Rapida approda ai 400 con un 16 quindi 31,5 si va verso il completamento dei 600 iniziali con Roger che gravita ridosso di Rapida 600 in 46,7 in corda sempre Raipur De Greppi davanti a Risk BF più indietro rispetto OP poi ritorno di fiamma Randall Club, Ruben Griff, Ruben Gonzales passaggio di fronte alle tribune Rapida sempre in vantaggio Roger all'esterno Raipur lungo la corda poi Risk BF gli altri più arretrati intanto ha iniziato a guadagnare Ruben Griff 1,18 il primo chilometro si va all'imbocco della penultima curva con Rapida in vantaggio Roger all'esterno Raipur De Greppi alla corda davanti a Risk BF più indietro rispetto Ruben Griff un bocco della retta opposta alle tribune Rapida OP sempre salda leader Roger sopravanza Raipur che sembra stanco all'esterno anche Risk BF molto più indietro un'altra corsa a 50 metri dai 4 di testa Rapida che torna ad allungare Roger che la segue Risk che si mette sulle gambe ora incalza Roger e prova l'aggancio a Rapida a 400 dalla conclusione Rapida in vantaggio Risk che si fa molto minaccioso al suo esterno poi Roger Tav ancora più indietro Raipur De Greppi lontani gli altri ingresso della retta del rivo Rapida alla corda Risk che attacca Rapida allo steccato Risk che insiste nell'offensiva Risk BF che attacca Rapida cerca la difesa Risk guadagna qualcosina Risk BF che passa definitivamente in vantaggio a 80 dal palo e viene a concludere netto davanti a Rapida OP poi Roger Tav per il quarto posto arrivo strettissimo fra Rispetto OP e Randall Club Vince Risk BF con Roberto Gradi sul mio cronometro 2.34.2 quindi dovrebbe essere 1.17.1 i 100 iniziali veloci dovrebbero aver abbassato la media a qualcosa al di sotto dell'1.17 Risk BF Roberto Gradi e i colori della scuderia Roberto la quota al totalizzatore è di 7.02 di RIO l'euro 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 l'evil la quota al